Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della nostra serie di Pokémon GO Anche oggi nessun tipo di gameplay, però non preoccupate, il prossimo episodio vedremo dei gameplay Sarò a casa perché ho dimenticato la mia Xiaomi a casa della mia ragazza Di conseguenza non posso andare in giro perché non ho modo di registrare anche la mia facciozza mentre catturò Pokémon Quindi sicuramente dalla fine di questa settimana alla prossima settimana Ci saranno più video di quel genere che so che vi piacciono un sacco Non preoccupatevi, torneranno sicuramente sul canale Ora stiamo vedendo un po' tutti gli aggiornamenti di Pokémon GO E oggi vedremo per esempio una cosa interessante ovvero come calcolare se un Pokémon è buono per diciamo farlo evolvere oppure no Quindi controllare i suoi EV e vedere se effettivamente questo Pokémon è buono oppure fa abbastanza cagare Quindi non ci conviene farlo evolvere e ne potenziarlo di conseguenza Allora sono su questo sito ragazzi come potete vedere e qui controlleremo i valori individuali ovvero gli EV dei Pokémon Su Pokémon GO quasi sono tanto 3, attacco, difesa e stamina L'attacco e la difesa comunque sono abbastanza facili da capire Mentre la stamina in sostanza sarebbe la vita che un Pokémon ha Ogni Pokémon ha caratteristiche differenti di questo tipo E quindi potete trovare per esempio che un Blastoise ha una difesa maggiore rispetto a un normale Child Che ha un attacco e una difesa abbastanza stabile o ha un Venusaur che per esempio ha un attacco maggiore e una difesa minore Questa è la tesi che cambiano a seconda dei Pokémon quindi potete tranquillamente scorrere questa pagina e scoprire quali Pokémon sono migliori E quali invece non sono migliori per difendere o attaccare una palestra di conseguenza Allora quello che ci interessa a noi in questo caso è l'Evirator Ok selezioniamo un Pokémon e per questa diciamo parte tutorial prenderò un Pokémon che ho già io Quindi prenderò un Charmeleon che ho fatto da poco Un Charmeleon selezioniamo poi anche il mio training level che in questo caso è il livello 22 ragazzi miei Scendiamo giù e vediamo un attimo in che punto abbiamo più o meno il nostro Charmeleon sulla barra diciamo dei potenziamenti Quindi in questo caso il nostro Charmeleon è più o meno a tre quarti della fine quindi diciamo più o meno qui Possiamo controllare anche sotto le Stardust che ci diranno comunque più o meno a che punto sta Quindi prendiamo questo Charmeleon va da 618 a 756 Noi abbiamo un Charmeleon a 740 quindi non è niente male Selezioniamo quindi il nostro Charmeleon che è 740 Ok eccolo un attimo qua selezioniamo quindi precisamente il valore giusto E poi vediamo anche quanti HP ha In questo caso il mio Charmeleon ha 69 HP quindi non è male Vediamo un po' se facciamo rate my Pokemon Abbiamo un Charmeleon che è quasi perfetto ragazzi C'è come rating più o meno di battaglia a un 95% quindi utilissimo se vogliamo attaccare Mentre per quanto riguarda gli HP rating è al 65% E invece per il resto è tipo 84% come CP in generale Quindi è un Pokemon quasi perfetto per noi Ovviamente questa cosa possiamo rifarla per tutte le versioni di Pokemon Tutti gli altri Pokemon quindi in questo caso Proveremo un altro Pokemon che abbiamo in questo momento Ho utilizzato Charmeleon perché in realtà è un po' come devo fare evolvere in Charmeleon Ma voglio capire se questo Charmeleon è giusto o no per la mia evoluzione Per esempio prendiamo un Ivisaur che abbiamo al 673 E questa cosa sempre il nostro livello è quello lì Quindi selezioniamo ovviamente Ivisaur E vediamo un po' in che parte è lui Più o meno è un po' meno rispetto al nostro precedente coso Quindi è livello 16 come state vedendo più o meno E ha 70 HP Quindi selezioniamo anche quanti vi ha che è 673 In questo caso è un po' meno da questo lato Quindi 673 ok E invece di HP ce ne ha 70 quindi leggermente in più Di conseguenza questo nostro Pokemon vediamo un po' come è messo Fa abbastanza cagare ragazzi Infatti è sotto di 2% per quanto riguarda il rating di battaglia E tipo è più o meno quasi a metà del valore massimo Di conseguenza Pokemon che non è proprio perfetto Non è proprio buono per farlo evolvere Vediamo un attimo di fare un'altra prova con un altro Pokemon finale Eccolo qua Ok allora vediamo un attimo adesso come sta messo Il nostro piccolo amico si potenzia a 2002 quindi è più o meno come il nostro precedente In questo caso E i CP massimi sono 1435 Di conseguenza io vedo che adesso abbiamo 1410 Che non sono niente male Vediamo un po' però anche gli HP quanti ne ha Perché vogliamo vedere questa cosa Ce ne ha 112 Quindi c'è il massimo degli HP di conseguenza Vediamo un po' come è poco meno come è messo È molto molto forte ragazzi Ha l'HP massimi quindi è fenomenale Mentre per quanto riguarda l'attacco e il CP È 87% Quindi è un Pokemon straordinario Ed è quindi un buon Pokemon da far potenziare Quindi questo è un Pokemon per esempio che vogliamo potenziare Con le nostre polveri di stelle E le caramelle ovviamente del conseguente tipo Ragazzi spero che questa guida per l'IV Ovvero i valori individuali sia stata utile Se avete dei consigli o comunque volete anche capire Se un Pokemon è migliore di un altro Utilizzate questo metodo Mentre se volete anche scrivermi qui sotto un commento Dicendomi un consiglio o cose del genere Usate sempre i commenti mi raccomando Perché li leggo sempre tutti Noi ci vediamo presto comunque A un nuovissimo video della nostra serie di Pokemon Go Che sarà sul gameplay in sostanza E' una prossima puntata Quindi non preoccupatevi Da questo è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata Ciao